Sono Andri Dani, sono nato a Scuteri e adesso vivo a Tirana dove ho la mia pratica come giovane artista. Ho finito l'Accademia di Belle Arti a Tirana quattro anni fa per grafica e pittura. Comincio dal primo progetto in cui si lega un po' la mia esperienza accademica e poi l'esperienza come giovane artista, perché il diploma è stato un lavoro che ha segnato quello che verrà dopo. Ho trattato un tema che ha a che fare con la mia città a Scuteri, che era una vecchia casa che avevo di fronte al palazzo dove vivevo, che si distruggeva e poi si ricostruiva un altro palazzo con un'architettura contemporanea adesso. Sono andato nel posto dove si stava distruggendo la casa tradizionale scuteriana, ho preso una betoniera che c'era lì, sono andato a trovare le persone che vivevano in quella casa e gli ho detto di darmi tutti gli oggetti tradizionali che avevano dentro, che ha a che fare con i tappeti, con i vestiti. Così ho cominciato a prendere gli elementi e ho cominciato a dipingerli, quella betoniera ed è venuto fuori come un oggetto che prova a evocare un periodo. È il contesto in cui stava in quel posto prima di distruggere quella casa, perché in quella betoniera entravano dentro due processi. Anche il processo che si distrugge la casa, si prende la prima materia, si mette dentro quella betoniera e poi va a costruire nuovi palazzi. E poi il secondo progetto che è venuto due mesi dopo il diploma in Accademia, ha a che fare con i negozi dei souvenir. Sono andato nei negozi di souvenir e ho comprato delle figurine che sono in terracotta e poi dipinte sopra con gli elementi molto kitsch, diciamo così, che non evocano i veri elementi tradizionali dell'Albania. Li ho portati di nuovo nel mio studio e ho cominciato a sgraffiarli e togliere il colore, perché mi interessavano che fossero esposti nella prima materia che è la terra. Perché se c'è una cosa che dà un valore territoriale vero, è la terra che si prende in Albania e poi si produce e poi il processo commerciale di quell'oggetto che tutti li comprano in quegli oggetti per portare un po' di Albania nel posto in cui vivono. È da qua che mi sono interessato al processo dei livelli degli oggetti e è cominciato anche il progetto che si intitolava Palimpsest, che è il fenomeno di guardare oltre ai livelli attuali e cercare nuove idee, nuovi concetti, nuovi elementi che si possono aiutare per trovare una nuova storia o per incontrare dei fenomeni del passato che adesso ci aiutano a vedere l'attualità e il futuro. Ho cominciato a farlo con gli oggetti che sono intorno a me, che hanno a che fare con la mia storia personale e della famiglia. c'è il Palimpsest 4 che sono andato a Scutari nella casa in cui sono nato e cresciuto e ho scavato i muri e ho trovato tutti i colori che si è dipinto la casa durante la storia, dal momento in cui sono nato fino ad oggi. E con la memoria dei miei genitori ho cercato di trovare il nome, ma non il nome commerciale perché oggi puoi andare in un negozio di colori e puoi trovare attraverso i codici, attraverso pantone, numeri e queste cose qua. Ma la relazione che in generazione dei miei nonni e dei miei parenti hanno avuto con la colore è del nome di quel colore. Per esempio chiamarli con i nomi della natura, oggetti che sono del loro quotidiano. E per questo motivo sotto l'elemento ogni colore ha un nome. Per esempio color mella, color sole, color rossetto, color pianta, specialmente elementi che hanno a che fare con la natura. E' un altro progetto, Palimpsest numero 5, che ho preso un tappeto molto vecchio, che sono cresciuto sopra quel tappeto, diciamo, che è del mio nono e poi mi sono stato curioso per un fenomeno in quel tappeto tradizionale albanese, perché anche nel linguaggio etnografico ha cultura tradizionale albanese. Sono andato a chiedere al posto dove si producono oggi i tappeti del processo del filo, se era colorito o se si coloriva per prendere poi la fisionomia estetica che aveva. E loro mi hanno detto che era cotone, cotone bianco e che ogni filo si coloriva e poi si faceva la composizione con gli elementi etnografici albanesi. Con l'aiuto del mio professore di chimica abbiamo fatto una soluzione che decolora il tappeto. L'abbiamo messo per una settimana dentro questo liquido e poi il liquido ha cominciato a prendere il colore e il tappeto è venuto fuori quasi scolorito e poi in un'esibizione che si è fatto a Tirana l'ho esposto così. Il tappeto come artefatto della nostra cultura tradizionale etnografica e l'aspetto visuale che è in un'altra dimensione che era liquido. In questo progetto mi interessava di più la storia, la storia raccontata o la storia creata dalle storie personali. Per esempio in Albania l'effetto di quel lavoro era che il pubblico ha cominciato a mettere in motore la memoria perché ciascuno negli anni scorsi ha avuto il tappeto nella casa ma con colori diversi e ha cominciato a ricrearlo con la sua memoria negli spazi in cui mancava il colore. E il colore che c'era a fianco non aiutava per avere una idea più chiara del tappeto. Il progetto 1,82 cm parla dell'architettura durante il regime comunista in Albania ma che in questo momento 82 cm è anche la mia altezza fisica. E' nato in Albania quando sono andato in un matrimonio e non ho potuto entrare nella entrata di un palazzo che si è fatto durante il regime comunista perché abbiamo avuto la stessa altezza. Ho fatto una foto e poi ho pensato sopra di cercare cosa c'è dietro a questa storia. Ho trovato l'architetto che ha lavorato durante il regime in Albania. mi ha raccontato la storia che ha fatto un progetto dei palazzi che si sono costruiti nelle periferie delle grandi città in Albania e che il dittatore Enver Hoja come capriccio ha messo la sua altezza nell'entrata di questi palazzi. E poi l'architetto mi ha dato la mappa di questi palazzi e sono andato in tutta l'Albania a trovarli e fare una foto nelle loro entrate. L'altro progetto ha un'altra poetica, è una storia che ho trovato nella fabbrica di ceramica a Tirana che durante il regime comunista a Tirana si sono prodotti tanti elementi etnografici in una maniera molto consumista ma poi tutti gli oggetti che si sono prodotti lì sono andato in Giapponia per essere venduti. E così la storia era che ho trovato il scultore che tutta la sua vita ha dedicato alla fabbrica della ceramica che era la prima volta nella sua vita che stava facendo un personaggio che non aveva a che fare con la cultura albanese. Ed era la famosa pop star Rihanna e la storia è che la fabbrica è in brutto periodo perché è molto difficile soltanto con gli oggetti tradizionali albanesi per avere successo nei nostri giorni e per questo motivo lui ha scelto di fare nuove figure, nuovi elementi per avere più successo nel contesto commerciale. Ha parlato con la sua figlia e gli ha detto che posso fare una figura che non è albanese ma che i giovani lo amano e che può aiutarmi con la fabbrica. Lei ha detto che la nostra generazione piacciono tante figure come Rihanna e così ha cominciato a fare un monumento di Rihanna in fabbrica. Con un bisogno di aiutare la fabbrica è nato questo nuovo fenomeno ed è importante in tutta questa storia il posto in cui viene, che è l'Albania, un posto del Balcano che è un po' chiuso e che non accetta lentamente le culture che vengono dall'esterno. In questo caso, nelle condizioni difficili, fa compromessi simili. L'ho chiamato Star Negative perché ho preso il primo negativo che si è fatto di quella scultura di Rihanna e l'ho portato in un progetto che si poteva esporre a Montenegro, a Croazia, che sono posti simili come sviluppo con l'Albania. che hanno le stesse storie. E poi a Venezia. Mi interessa a Venezia come fenomeno perché come città si nutre del concetto del turismo. E a Venezia, per esempio, è difficile trovare un souvenir che è di un altro posto. Per esempio, io non ho trovato un souvenir che parla di Roma, che parla di Napoli o di qualche altro posto dell'Italia. ed è un sistema molto chiuso in se stesso. E per questo motivo mi interessava parlare anche con il pubblico molto grande e globale a Venezia. Grazie Grazie a tutti